Anche la Chiesa Evangelico Battista di Chiavari a Rapallo sta vivendo un momento in distanza, come tutte le comunità religiose. Tutti i centri sono chiusi, sono state rinviate le riunioni e gli incontri. Si cerca di tenere i contatti con i fedeli in diretta su Facebook o sul sito istituzionale, per stare così vicini soprattutto alle persone più fragili. È un tempo propizio, dice il pastore Martin Ibarra Iperetz, per riflettere sulla propria vita. Si è rivelata la nostra fragilità, ci siamo scoperti all'improvviso fragili. Abbiamo riscoperto che la routine che ci aveva imposto, questo ritmo di vita ferrenetico, di vivere sempre all'esterno, doveva in qualche modo cambiare. Credo che è un momento per avvicinarci interiormente a Dio, per riscoprire la preghiera, la meditazione personale e per riscoprire il valore della vita, quanto sia imprescindibile sostenere in tutti i modi la vita. E questo credo che è una lezione che possiamo imparare in questi giorni. Anche il pastore Ibarra consiglia fortemente di non uscire, di non mettere in pericolo se stessi e gli altri, di non condividere sui social tutti i messaggi che arrivano, soprattutto se non verificati, e di non lasciarsi prendere dal panico. Non disperatevi, non state sempre lì ad ascoltare notizie, fate le cose che non riuscite a fare normalmente, dunque leggere, scrivere, parlare al telefono con le persone che amate, pregare, ascoltare dei messaggi che possano essere edificanti e tenere sempre alto il morale. Vinceremo anche questa.